continuano le polemiche attorno a Fedez. Dopo il dissing con Tony F. e le vicende dell'ex moglie Chiara Ferragni, il rapper è finito al centro di una bufera mediatica che da cul che giorno riempie le cronache italiane. Ovvero una max inchiesta della procura di Milano e della polizia ha portato allo scoperto il vasto sistema criminale dietro il tifo organizzato di Inter e Milan tra infiltrazione mafiose, estorsioni, richieste di pizzo, pressioni sulle società e sulla politica locale. Grazie alle intercettazioni della polizia, l'indagine ha ben presto portato a ricostruire come i tifosi fossero in grado di esercitare da tempo in debite pressioni e condizionamenti su allenatori, giocatori e esponenti dei due club milanesi. Tra i nomi ci sono anche due nomi che in qualche modo si collegano al mondo dei VIP e a un vecchio pestaggio andato in scena a Milano. Si tratta del 35enne Ismail Agag, 35 anni, noto come Alex Cologno, e quello di Cristian Rosiello, 41 anni. I due Rosiello soprattutto sono vicini, vicinissimi al rapper Fedez. Questa mattina un articolo di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano ha parlato della vicinanza del rapper I2 e delle intercettazioni in cui il cantante vuole coinvolgere in un'operazione di beneficenza il capo ultramilanista Luca Lucci, già condannato per droga e arrestato nella max inchiesta che ha azzerato le curve. L'articolo della giornalista, che già in passato ha parlato e criticato l'operato di Fedez e della ex moglie Chiara Ferragni, si intitola Mr. Lucia, quell'infinito dissing tra sé e la coerenza, ed è stato appostato su Instagram e condiviso dal suo account e da quello del Fatto Quotidiano. Tantissimi i commenti delle persone comuni, l'opinione di Selvaggia dovrebbe essere l'opinione di chiunque abbia un po' di buon senso, dovremmo elogiare il coraggio di chi ci racconta ciò che che altri mistificano, si legge tra i commenti. E ancora, la gente che commenta l'ossessionata ha il concetto di giornalismo pari a quello di Vespa ed Urso per la profondità di ragionamento, tenete bene a mente CHR questo personaggio, insieme alla biondina, ha ricevuto l'ambrogino d'oro, la massima onoreficenza che il comune di Milano attribuisce ai suoi cittadini per meriti civili. Non dimenticalo mai. Ma a colpire è stato un commento che definisce Fedez un poveretto, commento che ha colpito tanti perché scritto dallo stilista Stefano Gabbana. Grazie per averlo detto. Vedi, se lo scrivo io parte sempre l'idiota di turno che travisa il commento e dice che intanto Fedez ha i miliardi e il poveretto invidioso sono io che sta qui a commentare. Con te non funziona, grazie è quello che pensiamo in tanti, ha risposto qualcuno che evidentemente concorda con il grande stilista.